Non soddisfacente sotto il profilo economico, il commissario straordinario della Cantarelli, azienda tessile con sede a Terontola, avrebbe per questo motivo congelato la proposta dell'accordata Men's Fashion Group, unico soggetto a presentare un'offerta per l'acquisto pari ad 1.250.000 euro. La somma sarebbe stata infatti ritenuta bassa, soprattutto rispetto al valore dell'immobile. Attualmente però non ci sono conferme ufficiali in attesa di risposte in questo clima di assoluta incertezza sull'esito della gara anche le organizzazioni sindacali. Comprendiamo perfettamente che l'Avvocato Romagnoli abbia la necessità di approfondire i contenuti dell'offerta anche attraverso una discussione svolta privatamente con l'offerente. Quello che comprendiamo meno è che non ci sia, nonostante una nostra richiesta di informazioni da data 11 ottobre, alcun tipo di comunicazione ufficiale in ordine all'andamento di questa discussione. L'azienda era finita in amministrazione straordinaria nel novembre 2015 dopo l'insolvenza dichiarata dal Tribunale di Arezzo. Attualmente sono 250 i lavoratori, tutti in cassa integrazione. È un fermo che è intervenuto anche lo scorso anno. Ci sono dei lavoratori che sono da tempo in cassa integrazione a zero ore, dei lavoratori che ci sono entrati negli ultimi dieci giorni proprio per il cambio di stagione. Adesso dunque potrebbe essere messo un terzo bando, dopo quello dello scorso marzo andato deserto e quest'ultimo conclusosi in un nulla di fatto. Altro nodo da sciogliere è quello relativo al prolungamento dell'incarico al commissario Romagnoli che altrimenti scadrebbe il 12 dicembre. Per come è strutturata la legge in questo momento scade anche la cassa integrazione. Ora è chiaro che se la procedura dovesse proseguire e l'incarico del commissario dovesse essere ulteriormente prorogato per quello che dice la legge dovrà essere prorogata anche la cassa integrazione. Intanto i lavoratori scenderanno in piazza a Cortonna la prossima settimana. Abbiamo deciso con i colleghi delle altre organizzazioni sindacali di organizzare una manifestazione pubblica per riportare i lavoratori e le persone al centro di questa discussione. Anche il parlamentare aretino Marco Donati sta seguendo la vicenda e si è attivato presso il Mise. Io mi sono rapportato con il Vice Ministro Bellanova che segue come tutte le crisi aziendali questa vicenda. Ovviamente in questo momento il Ministero monitora ovviamente l'attività come è normale della gestione commissariale. Nei prossimi giorni capiremo meglio i sviluppi di questa vicenda. Chiaramente con l'apprensione che abbiamo tutti quanti per le sorti di chi ci lavora e ovviamente delle opportunità che un salvataggio potrebbe comportare in maniera positiva per questo territorio.